L'orologio della storia ha fermato le sue lancette a Firenze ed è suonata l'ora della pace e del dialogo. Esiste una coscienza mediterranea. La carta di Firenze è un raggio di luce nell'ora più buia in questo momento in cui sentiamo il rumore delle armi. Così il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, ha salutato vescovi e sindaci nell'incontro conclusivo dei due summit per la pace nel Mediterraneo che ha visto uniti 60 prelati e 65 sindaci di ogni sponda del Mediterraneo. L'invito, sia da parte di Bassetti che del sindaco Nardella, è condividere la carta di Firenze, una carta di pace, nelle proprie comunità e nelle scuole. Se il Mediterraneo è il protagonista di questa unione tra le città, i venti di guerra in Ucraina si sentono forti. No alla guerra, ha gridato il sindaco di Firenze, raccontando di una telefonata commovente avuta col sindaco di Kiev, al quale ha inviato le foto delle piazze piene di gente a sostegno della pace. Messaggi di pace sono arrivati anche dai sindaci di tre città simbolo, Atene, la città della polis, Istanbul, la città dei ponti tra culture, Gerusalemme, la città del dialogo. Prima di recarsi in Santa Croce, il cardinal Bassetti e il sindaco Nardella hanno incontrato, invece del Papa, alcuni rifugiati e profughi.